rispetto al tema delle metodologie condivise di raccolta dei dati, di definizione degli indicatori e di raccolta dei dati, sì da poter avere un quadro omogeneo su tutto il territorio nazionale in maniera univoca e spesso anche qualche riflesso di questa disomogeneità l'abbiamo avuta già ieri e l'altro ieri in alcune situazioni regionali, quindi probabilmente questo è un dato che come dire merita una riflessione, come vi dicevo noi adesso iniziamo la tavola rotonda, la scaletta poi subirà qualche modifica perché nel corso della mattinata ci raggiungeranno gli esponenti politici come dicevo sono impegnati per l'esame del collegato ambientale in Parlamento, prego dunque Rosanna Laraia che è la nostra responsabile al servizio rifiuti ma sono tutti la conoscete più e meglio di me, insieme ai rappresentanti di CONAI, Consorzio di coordinamento RAE, Consorzio Italiano Compostori, Utilitalia e FISE a suo ambiente di salire sul palco per partecipare alla tavola rotonda, ringrazio tutti per aver aderito al nostro invito e buon lavoro. Grazie. 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 Allora ci siamo aspettiamo un attimo che mette a 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 il ha a a a a a a a a Comincerei dal centro di coordinamento dei RAE. Vorrei rivolgere due domande al Presidente del centro di coordinamento, Allora io parto da alcuni dati perché chiaramente il Direttore Generale ha illustrato tutti i dati in una mola infinita per chi avesse volere di leggerle, sono oltre 500 pagine nel rapporto rifiuti, quindi chiaramente non si è soffermato in maniera puntuale per esempio sul discorso dei RAE, che invece sono un flusso importante di rifiuti, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, sono obiettivi ambiziosi che la legislazione europea e quella nazionale di ricepimento hanno fissato e noi registriamo per quanto riguarda la raccolta dei RAE domestici una certa ripresa, il Direttore ha mostrato questa certa ripresa, 213 mila tonnellate in leggera ripresa, ma vi vorrei ricordare che c'è un obiettivo di raccolta che dall'anno prossimo cambia, quindi fino al 31 dicembre i famosi 4 kg abitante per anno che non è un obiettivo esagerato, diciamo, così ambizioso, diventa invece molto più ambizioso a partire dal 2016 dove dovremo raccogliere il 45% facendo però la media degli ultimi tre anni dell'immesso al consumo e quindi diciamo un obiettivo molto più ambizioso. A questo punto, visto che non lo raggiungiamo, non abbiamo nel 2014 raggiunto neanche questi famosi e fatidici 4 kg abitante per anno, io faccio una domanda, che cosa pensa il centro di coordinamento di mettere in atto quali politiche, quali modalità, quali strumenti per raggiungere questo obiettivo ma soprattutto per prepararsi all'obiettivo molto più ambizioso del 2016 e ancora di più agli obiettivi di riciclaggio perché al di là della raccolta abbiamo degli obiettivi ambiziosi appunto di riciclaggio e dagli ultimi dati ISPRA che non sono neanche stati pubblicati, noi diciamo una media, stiamo intorno al 61-62% percentuale di recupero in generale, non di riciclaggio, quindi anche qui veramente tanto lontani dall'obiettivo. Grazie, dottoressa Vararia, grazie per questo invito, buongiorno a tutti, io vengo a un piacere perché in una vita passata lavoravo per le ARPA, per l'esaltezza per l'ARPA della Lombardia, quindi per me è veramente un piacere sincero essere qui con voi, condividere questa giornata e vi ringrazio ancora per l'invito. Ho molto apprezzato che una delle specialità che sono state mostrate all'interno della presentazione generale del dottor Laporta, del direttore Laporta, fosse appunto quella vera, il dato è corretto, sono 213 mila tonnellate, perché nel 2014 lei ha perfettamente inquadrato tutto quello che c'era da inquadrare in merito alle coordinate specifiche del nostro settore, che indubbiamente è un microsettore rispetto ai quantitativi dei quali abbiamo sentito parlare, però è un microsettore a elevatissima potenzialità di recupero, di riciclo, di riuso e mi riferisco soprattutto a quello che la legge chiede, come la dottoressa Vararia giustamente introduceva, per il futuro, cioè oggi il sistema è sufficientemente, ancorché non esaustivamente tarato per raggiungere gli obiettivi di raccolta attuali, cioè i famosi 4 kg che saranno validi come obiettivo di raccolta fino alla fine di quest'anno, non lo è ancora per centrare gli obiettivi che invece la direttiva europea e successivamente il 49 hanno introdotto nell'ordinamento nazionale. Non solo, ma non è nemmeno attrezzato per raggiungere quello che sarebbe il grande vero obiettivo dell'economia circolare, che è appunto la capacità di un sistema economico di sostenersi, recuperando con la massima efficacia ed efficienza a materie prime e seconde dai rifiuti che il sistema stesso produce. Questo è il quadro vero, la domanda è assolutamente pertinente, io non mi tiro indietro e dico questo. In primo luogo gli accordi di programma che sono stati recentemente rinnovati quest'anno con i comuni italiani e in una maniera, se volete anche, che costituisce un passo in avanti con le associazioni della distribuzione, costituiscono sicuramente il backbone, diciamo così, l'ossatura, la spina dorsale di questo sistema di raccolta. In Italia funzionano 3.500 isole ecologiche, se ne apriranno delle altre, ci sono dei fondi di incentivazione che sono previsti all'interno del fondo di programma. I comuni stanno facendo bene perché è vero, forse 213.000 tonnellate su un 850.000 di messo al consumo nel 2014 non fanno utile il 25%, quindi abbiamo un gap consistente, dovremmo raddoppiare per intenderci la quantità di rai raccolti pro capita, cioè passare da 4 a 8 kg, forse anche 9 per essere lì sul peso per il 2016 e successivamente ancora di più per il 2019, portarla addirittura a 12. però è certo che il sistema ha prodotto dei buoni risultati nei pochi anni da cui ESO ha cominciato a funzionare, stiamo parlando di una raccolta che è iniziata nel 2008. Che cosa ha fatto di più? Oggi noi prevediamo di incentivare con anche campagne di comunicazione molto incisive, nei limiti evidentemente dei budget che sono stati concordati all'interno dell'accordo di programma, la conoscenza e l'informazione ai cittadini consumatori. Questo è il vecchio tema dei rai e se voi pensate e sapete assai meglio di me che per mettere insieme i sistemi di raccolta delle plastiche, del vetro, della carta ci sono voluti più di 10 anni, forse anche 15, in termini di strutturazione di un sistema di raccolta e di capacità di fornire informazione sensibile ai cittadini, io penso che in questi pochi anni qualcosa è stato fatto e forse con lo stesso ottimismo se siamo in grado di lanciare potenti campagne di informazione dal punto di vista, vorrei dire, sistemico ai cittadini consumatori, il tasso di raccolta non può che subire un benefico salto in avanti, consistente spero. Probabilmente, ma qui io ho il dovere di essere realista, ma di certo non pessimista, potremmo non essere on time per quanto riguarda il 45% di raccolta a partire dal prossimo anno, anzi sicuramente credo non ci arriveremo, questo non vuol dire però che il sistema non continua a lavorare per ottenere cose di questo tipo ed è la cosa credo più importante da considerare. Credo sia stata fatta forse solo una o al massimo due campagne pubblicitarie sulle televisioni, sulle reti pubbliche e private nazionali negli ultimi anni, costano parecchio, ce ne voglio, stiamo pensando credo a qualcosa del genere ed è tema per esempio che il comitato guida dell'accordo di programma che si riunirà tra poco e che è lo strumento di governo dell'accordo di programma per la raccolta dei RAI prenderà sicuramente in considerazione. Le campagne non sono mancate, c'è stata una forte educazione dei cittadini consumatori in età scolare e giovanile, si chiama RAI Scuola, il progetto di Brani e che tuttora è in corso finanziato e cogestito dal centro di coordinamento da ANCI, ANCI dell'energia e ambiente. Va avanti da parecchio tempo ed ha avuto anche la capacità di contattare circa 12 milioni di persone, componenti nuclei familiari che sono stati contattati nel corso delle varie attività. Tutti questi tasselli contribuiscono sicuramente. Bisogna aprire più isole ecologiche, più centri di raccolta, soprattutto nelle regioni meridionali. Questo è molto evidente, i nostri dati sono meno coesi rispetto a quelli che riguardano le raccolte differenziate che abbiamo visti qui. C'è un gap drammatico tra nord e centro e sud per quanto riguarda la raccolta dei RAI. Questo essenzialmente dovuto alla non perfetta strutturazione del sistema di raccolta nelle regioni meridionali. Vi segnalo che di oggi la notizia pubblicata dal quotidiano di Sicilia è che viene aperto un primo centro di raccolta dei RAI a Palermo, una delle più grandi città del centro sud. Il primo. Meno male, esatto. Quindi lentamente ci muoviamo, ci arriveremo. Siamo più che felici di sapere che questo sta accadendo e di avere questa notizia oggi lì. Pertanto, più raccolta. Un tassello che è mancato e che auspicabilmente verrà potentemente sistemato nel sistema di raccolta è quello della raccolta attraverso le associazioni e la distribuzione, cioè attraverso la distribuzione, piccola, grande, organizzata, non organizzata, retail, eccetera. L'accordo di programma che è stato firmato a metà di questo anno, che è di fatto un ingrandimento di uno strumento che già esisteva da qualche anno, consente una maggiore operatività ed una maggiore efficacia nell'apertura di canali di raccolta attraverso la distribuzione. Perché oggettivamente andare al supermercato e comprare un rassoio elettrico e liberarsi del vecchio, oppure liberarsi del vecchio se è lungo, meno di 25 cm, è più facile che non andare in un'isola ecologica che magari ti richiede di prendere l'automobile, avere gli orari di chiusura, di apertura, eccetera. Quindi la capacità di offrire sempre nuovi luoghi dove i consumatori e i cittadini possono adeguatamente disfarsi, propriamente disfarsi dei loro orari è essenziale. Tutto questo dovrà essere fatto sempre di più nei prossimi anni, è inevitabile che questo accada, perché è certo che la raccolta dei Rai, aggiungo e anticipo forse dati che l'anno prossimo ci ritroveremo più a commentare. Sta andando meglio. 15 su 14. Grazie. Farei una domanda e poi la seconda. Lei mi ha quasi suggerito la domanda e quindi la faccio a Simona Fontana del CONAI, perché giustamente ha individuato quali sono le azioni da mettere in atto per raggiungere questi obiettivi ambiziosi. Per il CONAI gli obiettivi li abbiamo raggiunti da anni, questo l'ha detto, l'ha detto bene il direttore della Porta, però come prima si diceva riguardo ai Rai, anche riguardo agli imballaggi, noi lo scriviamo sempre, sono soprattutto alcune regioni che concorrono in maniera prevalente al raggiungimento di questi obiettivi e le zone grigie ci sono, ce ne sono tante ancora, nonostante tutti gli anni che il CONAI ha operato, ha operato anche molto bene, visto che questi obiettivi sono stati raggiunti, ci sono delle aree che ancora non raggiungono quelle performance. Allora io chiedo a Simona Fontana che cosa intende mettere in atto il CONAI, quali azioni per poter colmare questo gap, che nonostante un obiettivo già raggiunto da anni purtroppo rimane. Intanto intendo ringraziare a nome di CONAI l'invito di Ispra ad essere qui oggi, è un'occasione unica alla quale noi siamo molto contenti di poter partecipare. Ringrazio anche per la domanda che è stata fatta, che pone l'attenzione su un progetto specifico che CONAI intende portare avanti nel corso dei prossimi anni e che è stato originato dalla sottoscrizione del nuovo accordo quadro ANCI-CONAI. Come tutti sapete CONAI opera su tutto il territorio nazionale, consentendo ai comuni di conferire i loro rifiuti di imballaggio intercettati tramite la raccolta differenziata affinché i singoli consorsi di filiera possano poi avviarli alle successive operazioni di riciclo e recupero. In occasione dello scorso anno, quindi del rinnovo dell'accordo quinquennale tra il CONAI e l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stato previsto un piano straordinario per le cosiddette aree in ritardo. Piano straordinario che prevede innanzitutto degli investimenti, degli investimenti che possono arrivare fino a 5 milioni di euro all'anno, da destinare proprio per l'incremento delle attività di raccolta differenziata e quindi dei materiali che possono poi essere riportati a nuova vita grazie all'attività dei consorsi di filiera. A cosa sarebbero destinati questi fondi? Sarebbero destinati innanzitutto a supportare le pubbliche amministrazioni che, lo ricordo, sono responsabili dell'implementazione sul territorio comunale di una corretta, efficace ed efficiente raccolta differenziata. CONAI e i consorsi non si tirano indietro però nel supportare le pubbliche amministrazioni, nella redazione di progettualità legate allo start-up, all'avvio di piani di raccolta differenziata sui territori, andando prioritariamente a intervenire nelle aree, ovviamente più in ritardo, ma soprattutto nei grandi centri urbani. Da qui nascono tutta una serie di attività che sono già in corso e che dovranno partire, alcune sono già partite nel corso dei prossimi mesi con importanti città. Abbiamo visto ad esempio prima il forte ritardo nella raccolta ad esempio della Sicilia. Nel corso degli ultimi mesi sono stati sottoscritti importanti accordi di programma che prevedono ad esempio la collaborazione con il Comune di Palermo, il Comune di Catania. Quindi di sicuro ci stiamo muovendo proprio mettendo al centro le necessità di recupero di questo gap, anche perché noi siamo fautori dell'economia circolare che è stata ricordata prima e sappiamo bene che una corretta, efficace raccolta differenziata può portare poi a nuove materie prime e seconde, quindi a nuovi prodotti che possono essere rimessi nel ciclo produttivo. Mi sento poi di ricordare anche alcuni esempi positivi di come l'attività di Conai e Consorzio in questo senso abbia portato a casa. Ricordiamo il Comune di Salerno, la stessa operazione che stiamo facendo su Cosenza sta portando importanti risultati. Cosenza è passata dal 22% di raccolta del 2013 a un dato molto prossimo al 60% nel corso dei primi sei mesi di quest'anno. Quindi il sistema consortile mette a disposizione formazione, informazione, supporto nella comunicazione locale, proprio perché lo si diceva prima, comunicare ai cittadini l'importanza di un semplice gesto è fondamentale e quindi tutte le campagne legate a promuovere una corretta raccolta differenziata, quindi comunicazione locale, ma anche a dare un'immagine di quello che succede dopo che il cittadino ha fatto il suo gesto quotidiano. È molto importante e da qui anche tutta una campagna di comunicazione e media che è stata promossa sulle aree in ritardo insieme al Ministero dell'Ambiente che è la campagna dei nativi ambientali dove si vuole andare proprio a valorizzare cosa succede al rifiuto dopo che è stato correttamente gestito. Quindi diciamo il sistema consortile con noi ci sono e sono a supporto, ripeto, degli enti locali in questo percorso. Grazie. Abbiamo sentito un consorzio storico e allora a questo punto mi viene da rivolgere al Presidente del CIC che non è un consorzio previsto dalla legge e però abbiamo visto i dati, i dati diciamo la raccolta della trazione organica è fondamentale per raggiungere anche quegli obiettivi di riciclaggio. Abbiamo raggiunto il 45% secondo la metodologia 2 fissata dalla decisione europea ma se andiamo a vedere i dati quel 45% l'abbiamo raggiunto con il 39% di raccolta di riciclo perché così chiariamo poi anche la differenza tra raccolta differenziata perché c'è anche molta polemica su questo quindi di riciclo della frazione organica. E allora il CIC non è un consorzio previsto dalla legge, non è strutturato, il compostaggio invece sia il settore dal punto di vista infantistico sia la raccolta dell'organico sono fondamentali nell'ambito della circular economy e quindi io chiedo al Presidente questo non avere un consorzio diciamo strutturato crea dei problemi, vorreste qualche intervento legislativo che poteste prendere, perché da anni se ne va, ma in considerazione questo importante settore? Grazie Tato dell'invito, a ogni occasione mi rendo conto che questa lunga galoppata che il nostro consorzio ha iniziato oltre vent'anni fa oggi ci sta portando a traguardi importanti al di là ora dell'autostima che sta crescendo in noi e che ci viene confermata a ogni riunione il tema che tu poni è molto serio, cioè noi rappresentiamo l'asse portante, lo posso dire senza termini smentiti, del sistema di raccolta differenziata e recupero del nostro paese insieme a altre filiere, cioè tra frazione organica e carta rappresentiamo circa l'80% di questo tesoretto. In questi anni si sono sviluppati tutto autonomamente col sistema non protetto, usiamo questo termine, da un consorzio obbligatorio, quindi nella piena autonomia dell'imprenditore pubblico ma anche privato, insomma il nostro consorzio è abbastanza trasversale su questi temi perché rappresenta iniziative industriali sia di origine pubblica che privata, ci siamo guadagnati un accreditamento presso il cittadino perché alla fine è il cittadino che partecipa a questi processi di corretta gestione del sistema rifiuti nel nostro paese e quindi vediamo, oggi osserviamo che laddove la raccolta differenziata viene portata la frazione organica raggiunge subito performance interessanti sia nel nord in maniera diciamo anche strepitosa ma anche nel sud laddove si fa il cittadino partecipa al conferimento di qualità della frazione organica. Quindi siamo cresciuti e oggi la domanda che tu poni è una domanda importante perché questa crescita non è una crescita senza difficoltà. Oggi noi abbiamo profili tecnologici di grande innovazione e di grande appeal per il nostro paese in termini complessivi. Voi pensate cos'è il sogno di poter produrre da queste frazioni organiche una fonte di energia primaria come il metano? Oggi si sono aperti dei fronti che sono in corso di definizione per l'utilizzo del metano proveniente dalla gestione anaerobica sia per autotrazione sia per la diretta emissione in rete. Siamo stati per anni, a volte ce ne dimentichiamo ma non dobbiamo farlo, un supporto fondamentale al mondo agricolo. In questo dialogo col mondo agricolo avremmo avuto bisogno oggi, quindi posso affermare che questa è una di quelle cose di cui abbiamo bisogno, di poter metterci intorno a un tavolo in maniera strutturata, pianificatoria, come si fa in un paese che ha i numeri a questo punto per vedere in maniera globale il problema e capire tutta la frazione organica che noi trasformiamo in compost, quindi un prodotto, un ammendante utile per l'agricoltura, come il suo utilizzo possa essere valorizzato al meglio all'interno di un'economia circolare che vede anche l'agricoltura. Questa iniziativa di valorizzazione il CIC l'ha fatta da solo, si è creato un marchio di qualità che oggi è molto apprezzato dagli utilizzatori del compost, quindi è indubbio che un supporto economico, perché il nostro è un consorzio volontario, quindi il nostro volume di affari hanno, per usare un termine improprio, la contribuzione dei nostri associati è inferiore al mezzo milione di euro, rispetto a consorzi obbligatori che hanno valori economici da gestire ben più alto. Quindi il supporto normativo starebbe in questo, aver capito finalmente colui che legifera quanto è importante il nostro settore è avere una visione strategica complessiva che coinvolga, ripeto, per il recupero di materia la parte agricoltura, per il valore energetico che c'è nella frazione organica, trovare una formula brillante che qualificherebbe tutto il nostro paese, per valorizzare in maniera brillante, ora per l'appunto quest'anno ricorre il trentesimo, faccio una notazione un po' meno seriosa, di un film importante nella storia della cinematografia che è Ritorno al futuro, non so se vi ricordate il dottore visionario, lo scienziato visionario si ferma e alimenta la macchina con gli scarti organici. Bene, questo oggi si può fare, ora è una suggestione cinematografica, però voglio dire, per trainare l'economia a volte ci vogliono anche dei sogni, oggi si può fare e bisogna che, questo rispondo alla tua domanda, il legislatore dovrebbe avere questa visione strategica di un settore importante e consolidato nel nostro paese, peraltro siamo un'eccellenza riconosciuta anche a livello europeo, un modello da replicare e quindi sentirci un po' più confortati in questo percorso. Grazie, intanto io devo salutare il mio Presidente, il Professor De Bernardini, vorrei cedergli il posto, faccio un giro ancora, ok, allora, va bene, ringrazio il Presidente. Allora, a questo punto diciamo che ero seduta lì, perciò mi viene la domanda, ero seduta lì vicino al Vicepresidente di Utilità, Brandolini, quando il mio direttore leggeva un po' i costi dei servizi di igiene urbana e ho visto qualche commento. Allora, a questo punto io, e poi sapete che anche per chiarire un po' quello che scrivono poi i giornali la scorsa settimana, appunto Repubblica, anche ripreso alcune cose che avrei detto io, in realtà forse non mi ha compreso completamente e vorrei dire che noi come Ispra abbiamo fatto quest'anno, oltre allo studio che il direttore generale ha mostrato sulla tariffazione puntuale, anche un approfondimento della correlazione, se volete, dei costi dei servizi di igiene urbana, in realtà euro ha il costo per abitante, per chilo di rifiuto, in diversi scenari di raccolta differenziata su ben 462 comuni, quindi non quelli pochi della tariffa puntuale, ma con una popolazione coperta, visto che c'è anche il Comune di Roma, quindi il Comune di Roma ha solo 2,8 milioni di abitanti e abbiamo dimostrato che in diversi scenari di raccolta all'inalzarsi della percentuale di raccolta differenziata e alla presenza a valle di un'industria appunto dei rifiuti, quindi è di una drastica riduzione dello smaltimento in discarica, i costi si abbattono, come abbiamo visto pure per la tariffazione puntuale, più sale la raccolta ma c'è anche dietro un'infrastruttura, un'industria e il costo diminuisce. Allora io vorrei chiedere a Brandolini, condivide questi nostri dati e soprattutto abbiamo visto regioni con alte performance, costi bassi, come si può fare a coniugare le due cose? Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io Isla per l'invito e l'opera che è stata scoperta a me, l'Italia, di partecipare a queste parole profonde e ringrazio anche Isla per il lavoro che continuamente fa, per i lavori che produce, per rendicontare la gestione dei rifiuti nel nostro paese e l'ultimo anche di intervenire in maniera così analitica e approfondita anche sugli aspetti di costo che sicuramente sono importanti soprattutto per un sistema di imprese come le nostre che alla fine hanno anche dei bilanci economici sui quali misurarsi. Ovviamente l'analisi che è stata fatta su oltre 400 comuni sarà un'occasione importante per noi per mettere a confronto anche quelle che sono le nostre conoscenze, le conoscenze che abbiamo prodotto anche a livello di associazione e questo è un approccio molto corretto e molto importante perché come si citava in un articolo del giornale potremmo citare tante altre affermazioni in maniera purtroppo semplicistica perché hanno necessità di essere immediate rischiano di banalizzare il problema e di non consentirci una valutazione ponderata e reale di quello che è lo stato dell'arte anche rispetto ai costi. Perché nella gestione dei rifiuti ci sono vari fattori da tenere in considerazione. correttamente prima Rosanna Daraia diceva capire quello che è un mosello complessivo, una gestione del ciclo complessivo dei rifiuti e se condividevo o meno l'affermazione che laddove c'è un sistema avanzato con elevato percentuale di riciclaggio possiamo affermare che c'è anche una maggiore efficienza conoscenze. Io in termini non precisi perché appunto studiamo questi dati, mettiamo in confronto con i dati che abbiamo in disposizione noi ma in termini intuitivi o sulla base di un'esperienza aziendale affermo che condivido questa affermazione ovvero laddove c'è un ciclo di gestione dei rifiuti, aggiungo io, industriale che si preoccupi dalla fase della raccolta normalmente c'è anche la fase dello spazzamento, fase della raccolta fino alla destinazione finale del rifiuto e che individui degli sbocchi che siano corrispondenti e coerenti con gli eventi ambientali perché non dimentichiamoci che abbiamo degli eventi ambientali da perseguire e siano compatibili, sostenibili sotto il profilo e con l'opportunità di questo punto ciò che emerge da migliori di isprasia sia assolutamente condivisi. Abbiamo visto che le gestioni meno efficienti tra l'altro sono quelle maggiormente semplificate ovvero scarsa raccolta differenziata, scarso sistema infantistico tecnologicamente avanzato a valle e in caso mai ricorso eccessivo lo smaltimento di discariche e in caso mai discariche anche che godono non di una privativa dal punto di vista normativo ma di una privativa de facto e in caso mai sono discariche anche gestite da operatori totalmente sganciati dalla regolazione pubblica e per cui possono anche determinare il sistema per i farvi di eccesso a questi discarici. Conosciamo casi nel Paese in cui lo smaltimento del rifiuto costa 160, 180, 200 euro a parte della parte quando gli mettiamo in confronto con i dati di estrema sintesi vediamo che ovviamente non è competitivo anche dove stessi su uno scarso ricorso allo smaltimento di discariche. Noi abbiamo fatto come associazione, abbiamo già pubblicato la seconda edizione che ha già un paio d'anni quindi ormai dovremo ragionare sul suo ragionamento per analizzare i costi della raccolta differenziata, solo della fase della raccolta mettendo in confronto vari modelli ma anche verificando quelle che sono state le dinamiche nel Paese stiamo parlando di costi effettivi quindi abbiamo lavorato attraverso un consulente altamente qualificato su dati forniti dalle aziende quindi costi effettivi denunciati su un campione importante perché stiamo parlando di un campione che grossomodo equivale a un quarto della posizione dei rifiuti nazionali e grossomodo a un quarto dei rifiuti da imballaggio, qui stiamo parlando solo di raccolta differenziata di rifiuti setti che abbiamo in grado, circa un quarto dei rifiuti da imballaggio raccolti a livello nazionale quindi un campione estremamente rappresentativo e abbiamo messo confronto dati 2007 e 2012 che cosa è emerso? È emerso che a fronte di un elevato aumento della raccolta differenziata questo è accaduto anche con un cambio di modello quindi da modelli prevalentemente stradali si è passato a un modello prevalentemente domiciliare, porta a porta o comunque di raccolta differenziata la spinta, essendo solo dal punto di vista della raccolta, non del cibo generale di gestione complessiva dei rifiuti, essendo come no una raccolta domiciliare, una raccolta porta a porta comporta maggiori costi rispetto a una raccolta stradale abbiamo anche potuto consatare con soddisfazione, con un po' di insidizioni di orgoglio associativo nella rappresentanza del nostro sistema di imprese, abbiamo potuto constatare che nel corso di questi 5 anni a fronte di aumenti importanti di rifiuti raccolti viene differenziata l'aumento dei costi non è stato inerziale, siamo stati in grado con il sistema del suo contesto di efficientare quei costi. Questo che cosa significa? Significa che il raggiungimento degli obiettivi di natura ambientale, la progressiva imprenditorializzazione, industrializzazione del servizio accompagnato anche da un cambio di modelli ha consentito però di lavorare anche su un aspetto fondamentale qual è quello della efficienza economica. Poi che cosa abbiamo visto da questa analisi? Abbiamo visto che i costi sono collegati alla dimensione dei comuni serviti, mi sarà bene incrociare i nostri dati per quelli di Ispera perché forse qualche elemento, qualche votazione finale differente potrebbe mettere, ovvero più il comune servito a dimensioni grandi, più aumentano i costi per la raccolta differenziale. Così come abbiamo visto che i costi diminuiscono all'aumentare della produzione pro capite. C'è sempre da fare un distinguo, non voglio fare il precisino rispetto all'efficace presentazione del direttore una cosa che necessariamente si può essere sintetico. Quando valutiamo gli euro pro capito, le produzioni pro capito dobbiamo sempre tenere in considerazione due fattori. Uno quello dei flussi turistici che riguardano alcune aree, alcuni territori, alcune città in maniera importante rispetto ad altre, ma soprattutto politiche amministrative dei territori quale per esempio quella dell'assimilazione per cui emergono, non perché vengono dall'Emilia Romagna ma solo per dare un contributo anche esplicativo, il costo pro capite del rifiuto in Emilia Romagna è evidentemente più alto perché stiamo parlando di una maggior quantità di rifiuti che provengono anche dalle attività produttive, essendo che in quella regione c'è una forte assimilazione dei rifiuti, tenendo presente che le teste che il pro capite è sempre quello, il numero dei residenti degli alicanti. Tant'è vero che se si facesse la riflessione anche sulla base delle tonnellate o dei fili si inventirebbero le proporzioni. Così come emerge ovviamente da questa analisi che se il costo della raccolta differenziata degli imballaggi porta a porta o il pubiciliare non è rimane rispetto al stradale maggiore del 40% rispetto a questo campione, il livello di intercettazione degli imballaggi è decisamente superiore con il porta a porta rispetto alla raccolta stradale. Tutto questo per dire che cosa, per significare che nel momento in cui ci predisponiamo a organizzare una gestione dei rifiuti in un territorio dobbiamo analizzare quelle che sono le peculiarità del territorio, ben chiare gli obiettivi e soprattutto anche verificare quelli che sono gli sbocchi a palle delle raccolte differenziate. Che cosa stiamo registrando come sistema? Stiamo registrando che pur a fronte di importanti sforzi anche in un'area del centro-sud del paese che sono meno avanzata dal punto di vista delle performance ambientali per aumentare la raccolta differenziata manca un sistema intervistico e qui l'assessore di Roma il dato più noto che ormai il mio amico e collega Daniele Fortini tutte le volte ci ricorda che raccolgono i rifiuti in maniera differenziata, in questo caso per organi, ma non solo a Roma per poi inviarli nelle regioni del nord perché c'è una carenza di impianti. Ma questo riguarda anche altre aree del paese e anche il sistema impiantistico per avviare il riciclaggio, la raccolta differenziata di carta, la plastica e gli altri rifiuti raccolgono in maniera differenziata. Quindi per organizzare una gestione dei rifiuti è opportuno avere ben chiari gli obiettivi, partire dall'analisi del proprio territorio, dall'analisi anche di quelli che sono, che è il servizio esistente e ricercare il miglior rapporto, il miglior trade-off tra costi e benefici in maniera tale anche da avere impatti tariffari che siano sostenibili. Chiudo dicendo anche, vado un po' oltre per quello che è stata la domanda, che per raggiungere efficienza e per contenere i costi occorrono anche altri strumenti, siamo del Ministero dell'Ambiente quindi mi sento maggiormente incentivato a sostenere questo tema, ovvero avere un sistema tariffario che consenta di responsabilizzare tutte le parti in gioco, dalle imprese di gestione al cittadino, alle istituzioni e che correghi il più possibile la produzione dei rifiuti con, anzi quanto si paga con i rifiuti effettivamente prodotti. Da questo punto di vista tariffa puntuale, tariffa corrispettiva è uno strumento fondamentale, purtroppo in questo paese abbiamo fatto dei passi indietro negli anni scorsi, quando si è ritornato a una tassazione di stampo patrimoniale e in qualche modo vogliamo vedere il richiere mezzo pieno, come si può dire, nel collegato ambientale che si sta provando in queste ore, ovvero l'aver ribadito la necessità di avere dei criteri nazionali per l'intervenzione della tariffa puntuale, tariffa corrispettiva, dandosi un ulteriore tempo, ma cerchiamo di rispettare quel tempo, perché il sistema tariffario è davvero uno strumento importante per raggiungere, oltre che dare maggior trasparenza al ciclo, per raggiungere efficienza in tutte le fasi del ciclo, che come diceva giustamente Rosanna Alderai non riguardano solo la raccolta, ma riguardano anche la destinazione finale dei rifiuti, sia che vengono abbiati al recupero di materie o recupero energetico, sia che vengono abbiati al smaltimento, ovvero ad esportazione. Grazie, aggiungo che noi abbiamo cercato proprio di fare questo, di collegare la raccolta alla gestione e che abbiamo poi diviso anche in classi di popolazione, perché è vero, abbiamo riscontrato chiaramente che la diminuzione dei costi, i costi più bassi ci sono per quei comuni che hanno una popolazione più contenuta, quindi abbiamo 5 classi di popolazione, quindi questo è vero, l'abbiamo constatato. Allora io a questo punto farei la domanda al rappresentante di Fisiasso Ambiente, il mio dirizio, e gli chiederei, è stato detto un po' da tutti intorno alla tavola, quindi questa tavola rotonda, parliamo di economia circolare, parliamo di una comunicazione importante di luglio 2014 sull'economia circolare rifiuti zero, abbiamo una risoluzione recentissima del Parlamento europeo sull'economia circolare che ancora riprende il discorso di rifiuti zero, cioè nel senso che noi dobbiamo sempre più reinserire questi rifiuti nei cicli produttivi e non avere più la produzione e minimizzare al massimo lo smaltimento in discarica, in questo contesto la parte privata che gestisce i rifiuti urbani pensa di avere maggiori chance di cambiare, quali cambiamenti pensa di poter mettere in atto? Sì, grazie per l'invito e Fisiasi e l'azienda, l'azienda dell'associazione delle aziende che rendiscono la confiduzione del settore ambientale, quindi raducano le aziende in un solo privato. Il lavoro, prima cosa devo fare complimenti del lavoro perché per un addetto dell'autico invece avere quel quadro insieme è davvero uno spunto di riflessione, di valutazione davvero difficile. È chiaro che le aziende private e pubbliche in qualità di operatori del sistema sono cambiate così come è cambiato il quadro di riferimento, così come sono cambiate le abitudini dei cittadini che con il sistema porta a porta naturalmente hanno cambiato le loro abitudini, le aziende si sono trasformate e vedono, atteso che parte o meno la totalità degli ottimi risultati è dovuto al cambio di sistema, c'è la ragione, ma in grandolina è chiaro che il sistema porta a porta è l'unico che può darci le percentuali differenziate, dei percentuali di reti in cui è un materiale unito che poi possa mettere in piedi un sistema industriale per il loro proprio riutilizzo. Le aziende come sono cambiate? È chiaro che dal settore della raccolta, dal settore della raccolta c'è una raccolta a cassonetto a porta a porta è una rivoluzione, nel senso che al di là degli aspetti operativi, quindi automezzi, attrezzature in diversi parti, automezzi diciamo elettrici, ma c'è addirittura un rapporto diretto con l'utente, cioè che conferisce tutte le nostre aziende pubbliche o private oggi hanno un rapporto diretto con l'utente a cui consigliano le attrezzature, con quale hanno, diciamo, vanno ad effettuare le raccolte, quindi tutte le aziende hanno proprio un sistema di centroservizi, di fondazione, di un rilev, quindi è un po' cambiato completamente l'approccio. Solo il sistema porta a porta può in effetti dare questi risultati. Mi permetto di dire che proprio questa distinzione nord-sud non, diciamo, perché voglio portare avanti le ragioni del territorio da cui vengo, tra l'altro è una delle province che è il primo posto, è il benevento che è proprio il primo posto, però questa distinzione nord-sud secondo me ci fa, nord-centro-sud, ci fa perdere l'obiettivo reale, perché io credo che c'è una distinzione tra le realtà che non hanno ancora scelto questa strada e delle realtà che invece l'hanno scelta da anni. E il dato, naturalmente non potevo mai vedere una sardegna o una campagna che si troverà il vento. Non lo potrà vedere. Non si potrà mai vedere. Se noi analizziamo i dati delle province che sono hanno le stesse caratteristiche del vento, come quella del vento, il dato è il piccolo. Se noi immaginiamo che una regione come la Campagna, che ha 3 milioni di abitanti, di cui 3 milioni sono concentrati in una provincia, con una presenza di cittadini con oltre 100 milioni di abitanti di gran lunga superiore, è chiaro che questo obiettivo lo dobbiamo vedere da qua ad andare davanti. Nel capito che comunque, questo non può essere proprio tra i comuni, con un popolazione superiore ai 50 milioni di abitanti, ci sono diversi. Nella Campagna ci sono al primo posto, anzi addirittura al secondo, non stanno in questo posto. Il primo posto è stato determinato qualche giorno fa, ma è evidente che il dato va confrontato, se noi vediamo le singole province, bene, mentre abbiamo visto, abbiamo stato in Sardegna, i risultati sono simili più o meno a quelli del vento, a quelli del figlio. È chiaro che il cammino è più lungo, la stessa Sardegna, avevo portato l'esempio della Sardegna, che è stata secondo me, ha introdotto delle norme chiare e precise, senza nessun tipo di certo. Penalità chi raggiunge, penalità chi non raggiunge, senza nulla di... e questo sistema, mi scuso, è fatto così che al netto di oggi, credo, le due città più grandi, la Sardegna, oggi la Sardegna è ai primissimi posti e così fa, e poi al di là dei posti ha raggiunto l'anno 10, ho organizzato il portaporto in città da 100.000, coscientici, però, o comuni come romonali, diciamo, è, non si arriverà mai, forse un portaporto puro, ci saranno sempre, ci saranno sempre l'introduzione di variabili che consentiranno naturalmente una perfetta intercettazione del sito. La problematica dei vivianti è l'altra problematica che condiziona alcuni dei territori, perché è evidente che, diceva sempre bene per l'essenza di un ciclo virtuoso sul territorio, consente una serie di scelte, ma l'assenza completa di alcuni territori, che si tratta di due percentuali, del ciclo completo dei rifiuti, quindi questo turismo dei rifiuti, io non so se sono bisogno di direttore al lavoro, mi hanno detto che quando, attraverso l'autostrada, che si vanno a fare tra Modena e Bologna, un venerdì, ma io avevo l'impressione che ogni 10-8 mezzi c'erano 4-5 che trasportavano rifiuti, cioè questo turismo dei rifiuti, di frazioni di rifiuto anche semplici da gestire, come la frazione organica che sta crescendo, e che in alcune realtà del centro-sud ha anche le città di maggiori, che però vengono praticamente, diciamo, voglio, mia moglie mi ha fatto fare un ragionamento l'altro giorno, dice, ma come è possibile che un rifiuto che è così semplice da gestire? Sia quando ce l'abbiamo in casa, no, noi lo abbiamo in casa, questo rifiuto urbano, lo conserviamo con il porta a porta, lo conserviamo anche per qualche settimana, prima della raccolta, anche diciamo 15 giorni, se abbiamo un giardino, l'umido lo possiamo gestire da soli, come si può dire? Quando esce fuori di casa, diventa una cosa così complicata da gestire, cioè per gestire l'umido che produco io a casa, deve esserci qualcuno da parlo o da ordine che lo gestisce, come è possibile che fin quando lo conserviamo in casa è un materiale che anche i bambini possono toccare, poi quando esce fuori diventa una cosa impossibile, quindi credo che la semplificazione dei rifiuti soli urbani, che sono altra cosa da tutto il è possibile a tutti, perché davvero non si comprende come in alcune realtà, quando noi parliamo di ciclo industriale, ma davvero in alcune circostanze si tratta di impianti che non hanno nemmeno, diciamo, grosse problematiche sia di tempo o tecniche per essere realizzate, cioè come è possibile che in alcune realtà non si riesca davvero a mettere in piedi il sistema impiantistico. Io non ho una ricetta rispetto a questo, credo che anche per mischiare situazioni che non c'entrano l'una con l'altra, cioè la terra dei fuochi con i rifiuti soli urbani, dare diciamo troppo peso a volte a proteste che nascono in modo logittimo ma che poi sforciano in soluzioni fuori dal mondo non ha sicuramente aiutato e oggi per venire ai costi, diciamo che è un altro aspetto importante di questa vicenda, molti di questi costi sono drogati della vicoletta, dall'esistenza di rifiuti, perché nelle realtà dove si sta facendo di tutto per ragione, non è un circuito di costo, non può essere un circuito dove smaltire un kilogrammo o un quadrato dell'area di frazione organica dei rifiuti costa più che smaltire di un differenziale. È evidente che questo, diciamo, prima o poi, porterà delle conseguenze che anche perché vanno in servizio e poi vengono a rimanere i cittadini, quindi prima o poi queste contraddizioni esploderanno, esploderanno anche a breve, secondo me. Grazie, prima di lasciare questa tavola rotonda il posto al mio Presidente, io vorrei, vedo in sala l'assessore Marino e siccome il direttore Laporta ha sottolineato le buone performance della città di Roma, perché va detto, prima l'ha detto Brandolini, poi l'abbiamo sentito anche ora da Divizia, praticamente le difficoltà di una grande città, Roma è la più grande, ad organizzare un efficace sistema di raccolta veramente è difficile. Roma in qualche modo c'è riuscita è al 35,2 ma con un aumento di oltre 5 punti, quindi posso testimoniare, visto che sono in un quartiere, ci tengo tantissimo, servito dalla raccolta domiciliare, che per me è stata veramente una grande gioia vedere finalmente un quartiere pulito. Questo lo voglio dire, perché grazie alla raccolta domiciliare abbiamo superato, diciamo, molte anche di quelle immagini non belle che fotografavamo per Roma e quindi volentieri do la parola all'assessore. Grazie, scusate, io per l'altro sono arrivato a metà, capite che non sono giorni facili, però ci tenevo a essere qui proprio perché qui dentro c'è anche un pezzo del racconto di quello che è stato lo sforzo di cambiamento sul lavoro sociale in questi due anni. Tanto voglio ringraziare l'ISPRA, sia il Presidente dei Tre Vertici, ma soprattutto tutti i funzionari e chi lavora nelle agenzie ambientali e continua a lavorare in una fase di difficoltà anche per le agenzie ambientali. Quindi io credo che questo sia un riconoscimento dovuto perché sono parte, io ho molti colleghi, anche agendere ambientale, sono parte di persone che continuano, credono un po' come una missione e quindi continuano a lavorare per le difficoltà e sono tra l'altro un braccio attivo e un attivo scientifico fondamentale anche per il Ministero. Sicuramente il passo avanti, tra l'altro poi è stato meglio il 2014, nel 2014 sono stati avviati con un nuovo modello di racconto intervizzato dal Ciccino e in un Ciccino a giugno, quindi il dato oggi è ancora notevolmente più alto, però questo lavoro fatto in questione che acconti innanzitutto che si possono sfatare i nuovi comuni e le leggende metropolitane e perché quando siamo arrivati, insomma io vivo a Roma da quasi 40 anni, quando sono nata e quindi il tema è che a Roma non si potesse fare una volta differenziata, è proprio uno di quei miti che attraversano le chiacchiere da bar e diciamo il vissuto comune con le politiche dei cittadini. Invece questa cosa abbiamo dimostrato che non è così, abbiamo dimostrato che serve una volontà politica, sono sapete anche tante le norme e le leggi, perché poi ho fatto, come dico sempre, un obiettivo di raccolta differenziata, della critica del pallino di alcuni ambientalisti che ormai sono una norma di legge a cui bisogna giustamente adeguarsi, è stato un lavoro enorme che appunto ha sfatato anche tante le leggende metropolitane, perché l'altra insieme a Roma non si può fare la raccolta differenziata, l'altra passaggio è anche quando si fa la raccolta differenziata, buttate tutto insieme, il che così va bene diciamo essere non particolarmente intelligenti a volte da parte delle amministrazioni ma siccome costa fare la raccolta differenziata, costa un po' di più, a questo punto avremmo preso anche tutti insieme, perché insomma, avendo separato, magari la raccolta differenziata tutti insieme è qualcosa di antiproduttivo e antieconomico. Lo sforzo è stato fatto a partire qui, dico forse a questo tavolo il prossimo anno, in una tavola rotonda così, manca forse un attore, che io rappresento, non rappresento in quanto manca la presa di tutti gli enti locali. Eh, era stato invitato. Potrebbe essere la presa di Antenacci, perché è ovviamente uno degli elementi di questo mosaico confesso e però è qui che io riprendico il fatto che in questa città l'amministrazione e la politica abbia ripreso in mano il tema dei chiudi e le politiche dei chiudi, il fatto che siano le amministrazioni che fanno quelle scelte che determinano o meno dei cambiamenti che passano anche per la scelta tecnica del modello, fino a, diciamo, all'al fine del tema dei chiudi e chiudi, però passano soprattutto per scegliere di cambiare il sistema e di decidere di vedere quella normativa comunitaria, di andare verso il proprio riciclo, raccolta differenziata e solo via esituale incenerimento e smaltimento. E questa è stata la scelta operata a Roma, perché ne eravamo convinti da un punto di vista ambientale, perché Mareloca finalmente ha chiuso, perché ne siamo capiti da tutto il sistema economico, all'inizio costa, ma allora poi non dobbiamo anche non elencare come ha fatto Mareloca, tutte le sfaccettature del tema, la scelta della porta differenziata di certi modelli, una scelta che va fatta rispetto alle esigenze del territorio, non esiste la soluzione, tutto porta a porta, tutto stradale, tutti insieme, non esiste la soluzione, ma è una scelta che va maturata rispetto alle condizioni del contorno, non è una città come la Roma, questo è il lavoro fatto che è stato fatto in questi due anni, perché poi c'è da tenere un difficile, come sta bene appunto il Presidente Portini, un difficile lama, un difficile equilibrio archeeconomico delle aziende, nel momento in cui si approccia questo cambiamento, fare la porta differenziata all'inizio costa, perché porta a porta, ovviamente al genitore personale è un elemento costoso, ma poi ne abbiamo un ritorno, lo stiamo vedendo, un doppio ritorno, perché mandando meno materiale, la filiera, che è una filiera per i comuni di costo, a smaltimento e valorizzazione energetica, noi dimeniamo i costi e poi conferendo le rettature come con aria abbiamo anche il ritorno al contributo con aria, per quello che invece raccogliamo più differenziato. Unica nota dolente, sicuramente il tema dell'impiantistica, in generale in particolare la Roma dell'impiantistica di compostaggio, però qui c'è un altro tema che va affrontato appunto come scelte politiche, perché a Palle c'è un settore industriale, noi guardiamo sempre il tema cittadini, il servizio, ma a Palle c'è un settore industriale con tutte le dinamiche legittime e illegittime di un settore industriale. Allora la scelta, su quale sono, qual è il percorso che deve fare una amministrazione, confrontandosi con tutti i soggetti, ma la deve fare la pubblica amministrazione, non la deve fare il settore industriale, di riferimento. Il settore industriale sia un settore, come io vedo, performante, giustamente si vedevo a quelle scelte, anzi spesso con altre soluzioni, soluzioni innovative. Questo è quello che purtroppo è mancato nel Lazio, nel senso che noi abbiamo una garanzia ambientistica e anch'io voglio evitare di portare a Padova sia per i costi, sia perché Simona fa l'LCA, diciamo, di tutto lo smaltimento, fare 600 milioni con un camion non è proprio il massimo come prodotto ecologico, però noi portiamo a Padova perché l'azienda, l'azienda pubblica ha fatto una gara, ci sono i soggetti che in questo momento il prezzo migliore è stato offerto da un impianto di Padova Pessoa, che è una garanzia impiantistica nell'Asio ed è l'altro elemento su cui stavamo iniziando a lavorare, perché il tema degli erosistetti non è altro che iniziare a far diventare anche l'azienda pubblica un player o costriare all'interno di questa regione, andando a compiere quel capo di impiantistica della filiera del rapporto differenziato, quindi non dell'indifferenziato, in questo momento manco. Quindi questo è uno sforzo fatto all'interno di una fase, un periodo difficilissimo e all'interno di un contesto di un settore difficile, che grazie arrivato da una neore pratica, il presidente della commissione sui leciti nel ciclo dei rifiuti, che sta lavorando tantissimo anche nel Lazio perché dobbiamo in qualche modo riportare le tribunali della rivalità anche in quel settore, però è un percorso che ha dei binari solidi, io credo l'abbiamo incardinato sui le binari molto solidi e spero che quindi diventi a questo punto nel futuro per cui ci sarà non semplicemente patrimonio dell'amministrazione che ha preso questa strada, ma patrimonio di tutti i cittadini, credo che lo stia diventando, insomma, all'interno di torresivo, all'interno di difficoltà che abbiamo avuto quando si fa un cambiamento di questo genere in un sistema dei rifiuti in Europa, più abitanti, più turisti e fuori sete, più tutto quello che è cambiare la vita al mito, appunto anche in un'azienda come l'Ama di 8.000 dipendenti, qualche scossone, qualche contracorpo anche sui servizi, è naturale che ci sia andare a rileggere le cronache di Milano, mi sembra gli anni 90, la discarica è esattamente successo più o meno la stessa cosa, lo posso dire qui che è un contesto più tecnico che politico, ma era, diciamo, lo scopo da pagare necessario per mettere il sistema dei rifiuti in Europa su un binario molto più corretto, moderno, ambientalmente sostenibile e credo che ci porterà tanti più tardi, quindi vi racconta differenziata nei prossimi anni, tutto questo i cittadini ormai informano, insomma, l'abbiamo parlato, grazie. Grazie alla seconda, io cedo il posto al mio Presidente e saluto anche il Presidente della Commissione d'inchiesta, Bratti, grazie a tutti.